Brollo invasa da piccoli calciatori per il Brollo Football Day, giornata dedicata al calcio giovanile che ha visto fronteggiarsi ragazzi provenienti da tutta la Sicilia. Numerose rappresentative, trappolcini, esordienti e giovanissimi provenienti da tutta la regione, si sono affrontati in una manifestazione che in pratica ha chiuso le attività agonistiche della stagione 2014-2015. Speriamo anzi di avere questa unione di intenti qui con il Comune per poter svolgere attività calcistica, speriamo di sì che questo primo incontro sia profigo come sta dimostrando di esserlo, abbiamo incontrato anche delle belle squadrette ben organizzate e quindi speriamo che questo vada avanti, questo discorso che si è aperto e speriamo appunto che noi si riesca ad avere una continuità qui a Brollo. Brollo Football Day è stata una grande festa per i ragazzi che si sono affrontati in campo, mentre per i più grandi è stata anche l'occasione per riflettere sulla crisi del calcio, soprattutto quello dei dilettanti. La crisi che c'è in giro si sta ascendendo in tutti i settori, ma specialmente nel mondo del calcio se ne sta riscendendo perché molti imprenditori non hanno più i fondi per mantenere il calcio, lo sport e quindi rinuncono e quindi parecchie squadre falliscono. Speriamo che la situazione è migliore, se no perché è un peccato fare finire questo sport. Speriamo che la situazione è migliore, se no perché la situazione è migliore.